Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati. Ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso. Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda perché ci ha messo otto giorni a denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza perché forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne che spesso impiegano non giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare, superare anche magari la vergogna, l'angoscia. E quando Beppe Grillo ci spiega che suo figlio è chiaramente innocente perché non è né in carcere né agli arresti domiciliari, dice semplicemente una falsità da un punto di vista giuridico che non sta né in cielo né in terra. E anche quando ci spiega che sono solo dei coglioni, cito Grillo, quattro ragazzi che stanno scherzando de-responsabilizza degli adulti maggiorenni e lo fa semplicemente perché lui è famoso e può fare l'avvocato del proprio figlio. Allora a me piacerebbe che dentro al Movimento 5 Stelle qualcuno, magari qualche donna, prendesse le distanze da Beppe Grillo e non perché io debba condannare il figlio di Beppe Grillo. Non sta a me farlo. Io sono garantista con tutti anche verso di lui. Per me vale la presunzione di innocenza anche per il figlio di Beppe Grillo. Però di cosa si lamenta oggi Beppe Grillo? Di un clima schifoso? Di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia? Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro, e dopo indagini di anni non ha nemmeno una sentenza di condanna, archiviato. Eppure quanto odio, quanta volgarità, quanta violenza verbale in quegli anni hanno accompagnato la mia famiglia, spesso ispirati da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Eppure noi abbiamo aspettato che parlassero i giudici, abbiamo aspettato che la giustizia facesse il proprio corso a differenza di Beppe Grillo. E allora oggi? Oggi Beppe Grillo ci spiega che ci sono due pesi e due misure. Ci sono le regole e la morale che si applicano a lui e alla sua famiglia, quelle che valgono per la mia di famiglia e quella di tutti gli altri, attaccati ingiustamente negli anni dal Movimento 5 Stelle. Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare.